Eccoci da Ecomondo in diretta dallo stand del gruppo Sole24ore per il nostro salotto, un salotto in cui ospitiamo interviste, interviste importanti come quella che sta per iniziare insieme a Lucada Alfabro che è presidente del gruppo IREN e che ha anche una carica istituzionale perché è presidente di ISG European Institute, quindi è con lui che voglio affrontare il tema di che cosa si intenda il fattore ISG e come una multigibility possa in qualche modo portare a terra questo concetto che è fatto di tre elementi in cui forse l'elemento ambientale tende a superare un po' gli altri due ma invece è proprio una triade che non deve essere in qualche modo dispersa. Benvenuto intanto. Grazie, grazie dell'ospitalità. Sì, il tema ISG è un tema che oggi è ancora molto accademico ma in realtà è un tema di sostanza, nel senso che quando si parla di ambiente, si parla di impatto sociale e di impatto sulla governance, sulla gestione delle aziende, in realtà si parla di un nuovo modello di business, di un nuovo modello economico dove l'equazione produco, uso e getta viene sostituito da un'equazione circolare, rigenero, riutilizzo, gestisco le sostanze e le risorse del pianeta in maniera più oculato, più attento, più ambientale, ma lo faccio anche da un punto di vista socialmente come dire, accettabile, socialmente ad impatto zero, dando anche la possibilità di avere un impatto positivo alle azioni economiche che avvengono nell'ecosistema. Quindi un ecosistema di business che ha nella trasparenza nel business, nell'impatto sociale positivo e nella gestione ottima, positiva dell'ambiente in realtà una fonte di reddito, perché un mito che va sfatato è che i fattori ISG, la sostenibilità piuttosto che l'impatto sociale costano, in realtà non costano. Se si fanno le misurazioni giuste, se si fanno le analisi giuste, in realtà un business che ha un impatto sociale positivo, ha un impatto ambientale positivo, fa risparmiare l'imprenditore e la società. Questo anche perché i fattori ISG si applicano non solo al prodotto, ma molto al processo, quindi ottimizzare il processo significa in qualche modo fare efficienza e poter, giustamente come dice lei, risparmiare. Molto giusto, sì. In effetti rientrano non solo nella sfera del prodotto, ma nella sfera del processo, nei metodi, includono la diversità. È provato che un'azienda che ha un equilibrio di genere maggiore, ha anche una efficacia, una creatività maggiore. Le città che hanno, come dire, una diversità nel genere, negli approcci, nelle modalità, sono città più resilienti, cioè si dimostra in realtà, qualcosa che da un punto di vista di buonsenso già lo direbbe il buonsenso, è che in realtà la diversità è una ricchezza e quindi l'impatto sociale della diversità, che viene misurato, Harvard ha fatto diverse analisi su questo, in realtà è un effetto positivo. Per dire che cosa? In questo momento di grande cambiamento, non dico di crisi, ma di grande cambiamento dell'economia, delle strutture economiche, degli ecosistemi, i fattori ESG rendono l'azienda più resiliente. Sono una soluzione, non sono un problema, non sono un costo, sono un guadagno. Non a caso avrete un premio anche che è dedicato a questo tema. Stiamo lanciando e abbiamo lanciato un progetto verso i giovani, verso la ricerca. L'Italia non è un paese per giovani, non è un paese della ricerca. Ricordo sempre che noi, come italiani, investiamo 2 miliardi di euro nel venture capital, un paese piccolo come Israele investe 80 miliardi di euro. Quindi siamo molto indietro. IREN ha deciso di investire e lanciare il primo di dicembre un contest, una gara per le migliori tesi che si occupano dei fattori ESG, tra tutti i grandi atenei italiani, ma non solo del nord, ma anche del sud e del centro. Quindi raccoglieremo intorno a noi esperti, nazionali e internazionali, i giovani, chi ha fatto le tesi e con loro discuteremo di questi temi. L'idea è quella di investire in due settori che a mio parere sono ancora un po' sottogestiti, sottovalutati e anche un po' bistrattati in Italia, che sono i giovani e la ricerca. Oltre al tema della promozione dei contenuti, chiaramente voi siete chiamati anche in prima linea a dare il buon esempio e come IREN avete tanti impianti innovativi che state mettendo a terra, soprattutto sul tema ambientale siete davvero all'avanguardia. Ci racconta qualche novità recente che state anche presentando qui ad Ecomondo dove, lo ricordo, avete uno stand anche piuttosto grande e visibile. Ci stiamo muovendo su tutto l'arco dell'economia circolare, quindi dal recupero del legno, legno che si raccoglie e che non si deve buttare in discarica perché è un valore importante, abbiamo un impianto in Piemonte. Dal recupero delle schede e del RAE, quindi stiamo costruendo un impianto ad Arezzo, ne abbiamo uno importante, molto innovativo che utilizza l'intelligenza artificiale in Piemonte. Al recupero dei materassi, abbiamo finanziato e stiamo sviluppando con uno start-up piemontese un'azienda che fa recupero di materassi che invece di andare in discarica, sono molto ingombranti, sono molto inquinanti, noi recuperiamo tutta la materia e facciamo del materasso una nuova fonte di materia. Per dire che cosa? IREN è una di quelle aziende che oltre che investire nel territorio è più ingaggiata nell'investimento nell'economia circolare. Noi ci crediamo molto, io ci credo molto, diciamo un po' la mia storia dimostra che credo molto all'economia circolare, ma ci credo perché non solo fa bene all'ambiente, ma agli imprenditori, l'economia, la politica, la ricerca devono capire che è una grande fonte di reddito l'economia circolare. Lo è oggi, lo sarà ancora di più domani. Grazie e soprattutto grazie perché è proprio dai big player che deve partire l'esempio che poi deve a cascata coinvolgere tutti, anche le PMI e anche le start-up che voi coinvolgete nei vostri processi. Grazie, grazie per l'ospitalità. Un ultimo accenno troverete su questa guida, io non ce l'ho qua non a caso, un intervento di Luca Dalfabro in cui racconta proprio l'importante degli ESG e questo è uno speciale che il Sole 24 ore ha realizzato per Ecomondo. Grazie ancora e di nuovo a presto, tra poco, qui in diretta con noi per altre e nuove interviste. Grazie.